ciao a tutti in questo video vedremo come creare materiali in blender nei precedenti tutorial abbiamo visto come creare una semplice scena utilizzando tecniche diverse fino ad arrivare all'aggiunta di luci infatti se clicchiamo nella visualizzazione shading della viewport possiamo notare come all'interno della scena ci siano già delle luci inserite queste ci servono per tutto quello che vedremo sia in questo tutorial sia nei successivi ossia l'introduzione dei materiali delle texture per poi arrivare al rendering finale partiamo dallo shading ossia dalla creazione di materiali in pratica noi abbiamo modellato ma questi oggetti non hanno nessun materiale associato questo vuol dire che se io volessi colorarle colorare questi oggetti di un determinato colore non posso farlo senza andare a creare un nuovo materiale come vedremo i materiali servono poi per in realtà ricreare tutta una serie di caratteristiche fino all'aggiunta delle texture per rendere realistici i nostri modelli per creare un nuovo materiale dobbiamo prima di tutto avere aperta una finestra relativa allo shading possiamo crearla all'interno del nostro layout oppure andare direttamente nella tab shading che è fatta apposta proprio per lavorare sui materiali cliccando abbiamo diversi pannelli già pronti che ovviamente possiamo modificare vediamo che al centro in alto abbiamo una viewport che è già settata nella visualizzazione shading quindi questa non è la visualizzazione diciamo del nostro rendering finale ma una modalità intermedia in cui come vedete anche le luci non sono in realtà calcolate per come le abbiamo inserite ma l'illuminazione viene calcolata utilizzando quello che si chiama hdri cioè un uno sfondo un'immagine a 360 gradi che è quella che vediamo qui e che eventualmente possiamo modificare che ci crea un'illuminazione di base che ci serve per poter vedere il risultato del nostro lavoro se vogliamo modificare questo hdri quindi questo sfondo che ci genera l'illuminazione possiamo espandere le opzioni dello shading e qui possiamo vedere l'immagine che in questo momento è caricata cliccando possiamo sceglierne delle altre e vedete che ogni qualvolta io vado a cambiare l'immagine di sfondo va a cambiare anche l'illuminazione perché la luce appunto viene calcolata partendo dalle informazioni che sono in questa immagine ecco qua che l'immagine è stata modificata lo vediamo anche dall'anteprima quella che vediamo oggi è la visualizzazione dello shading che qua sotto è già pronta e che possiamo comunque attivare in qualsiasi momento ad attivare o a cambiare selezionando shader editor questa tab ci farà vedere il materiale quindi lo shader editor relativo all'oggetto che andiamo a selezionare proviamo a selezionare gli oggetti che abbiamo in scena ad esempio questo monitor e vedete che lo shader editor effettivamente è vuoto cliccando invece sul tavolo vediamo che qualcosa è già inserito mentre su altri oggetti di nuovo abbiamo lo shader editor vuoto partiamo da zero selezioniamo per esempio il vaso che non ha nulla e creiamo un nuovo materiale per farlo possiamo andare qui e cliccare proprio new quello che succede andiamo espandere la finestra e che ci viene creato questo principal bsdf che cos'è questo è un materiale per così dire già pronto che si trova all'interno di blender che ci mette a disposizione che racchiude tutta una serie di opzioni che ci permettono di velocizzare la creazione del materiale stesso per capire effettivamente che cos'è uno shader un materiale è effettivamente la simulazione di un materiale di un oggetto quindi ad esempio se noi il vaso lo intendiamo fare con un effetto di ceramica dovremo cambiare le impostazioni in modo da avere come risultato finale un materiale che sia per esempio lucido leggermente riflettente liscio eccetera se invece volessimo fare il tavolo di legno dovremmo cambiare queste impostazioni per dargli appunto il colore adeguato il tipo diciamo di effetto più o meno ruvido a seconda del tipo di legno o ancora se volessimo fare questa scritta con un effetto metallico dovremmo dargli le impostazioni per arrivare a quel risultato quindi di fatto il software va a simulare il materiale come si comporterebbe nel mondo reale per creare quell'effetto poi vedremo in un tutorial successivo che per raggiungere questo risultato possiamo utilizzare anche le texture ma ne parliamo appunto separatamente visto che sono argomenti molto complessi che aprono tutta una serie di opzioni e di scelte lo shader editor di blender come in molti software funziona a nodi questo significa che noi abbiamo degli input e degli output e possiamo inserire diversi nodi e ogni nodo di fatto è come se fosse diciamo così un effetto che andiamo inserire e andiamo ad applicare per esempio l'aggiunta di un colore o l'aggiunta di una texture l'utilizzo di una sfumatura eccetera oggi vedremo la versione più semplice cioè il creare un materiale di base utilizzando semplicemente il nodo principal che è proprio quello che ci permette di fare diciamo così la maggior parte del lavoro velocemente e per iniziare a capire come funziona lo shader editor andiamo a vedere le opzioni diciamo principali ce ne sono veramente tante e ognuna ha una sua caratteristica quelle principali sono il base color che si tratta appunto del colore che noi stiamo vedendo attualmente bianco ma ci basterà cliccare per andare a cambiarlo quindi questa è l'impostazione diciamo più di base dovendo fare come abbiamo detto un materiale che possa essere simile alla ceramica lasciamo un colore tendente al bianco possiamo magari dargli una sfumatura non proprio di bianco puro possiamo anche cambiare l'intensità di questo colore ed ecco che abbiamo la prima opzione vedete che qua di fianco ci sono tutti questi pallini che sono di fatto degli input questo cosa significa che invece che dare un colore unico al nostro vaso potremmo dargli un input cosa potremmo mettere in questo input beh possiamo deciderlo noi ci sono veramente tante cose che possiamo aggiungere per farlo ci basta andare in add e scorrere tra tutte queste opzioni oppure come per aggiungere un nuovo oggetto nella scena fare shift a e si aprirà lo stesso menu sono veramente tante quindi non le vedremo oggi appunto queste opzioni ma per far capire il funzionamento ad esempio quando vedremo le texture cioè le immagini è proprio qui che andranno inserite e collegate proprio perché al posto del colore noi possiamo usare un'immagine come per esempio appunto l'immagine di una decorazione che deve essere applicata a questo vaso o ancora una sfumatura di colore quindi io potrei andare in add e cercare per esempio in color possiamo altrimenti anche andare in search e vedere se c'è qualcosa effettuando la ricerca che si avvicina a quello che ci serve per esempio se noi cerchiamo una sfumatura di colore possiamo cercare una color ramp che appunto una sfumatura se noi andiamo ora a collegare vedete che il colore dei pallini è lo stesso questo vuol dire che sono collegabili fra di loro quindi ovviamente l'input di un colore va associato all'output dello stesso colore lo colleghiamo vedete che ha cambiato leggermente colore perché ora è sparito il colore che abbiamo dato noi e viene utilizzato questo nodo come colore per il nostro materiale questa è una sfumatura di colore quindi se noi andiamo a modificare le impostazioni è una sfumatura in bianco e nero intensifichiamo il nero vedete che appunto va a cambiare il colore del nostro vaso ovviamente possiamo fare una sfumatura che può essere anche colorata quindi per esempio cliccando qui possiamo fare che il colore parte in input da qualcosa di più azzurro per finire in un output che è più bianco in questo momento la sfumatura è lineare ma possiamo cambiarla per esempio farla diventare di un'altra tipologia andando a cambiare appunto l'intensità di questa sfumatura possiamo creare degli effetti più o meno interessanti se vogliamo tornare alla versione diciamo standard con un unico colore possiamo cliccare di nuovo sull'output e scollegare trascinando il nodo non essendo collegato noi il nodo lo possiamo anche lasciare qui se non vogliamo cancellarlo ma in realtà non verrà renderizzato e quindi si utilizzerà il colore di base che abbiamo scelto precedentemente lo possiamo anche intensificare in modo che si veda maggiormente tra le varie opzioni vedete qui sotto che ci sono diciamo quelle principali più utilizzate soprattutto all'inizio per creare dei materiali di base che sono il metallic lo specular la roughness e poi andando più in basso abbiamo le mission e come vedremo più in seguito quando utilizzeremo effettivamente delle texture la normal vediamo alcuni di questi in modo da capire quello che sta succedendo come dice il nome il metallic è quel valore che ci permette di simulare il fatto che il materiale sia più o meno simile al metallo quindi ci dobbiamo aspettare che questo valore vada a cambiare anche di molto il modo in cui viene riflessa la luce vedete che sono tutti i valori che vanno tra 0 e 1 quindi 0 non è per niente metallic 1 è al 100% metallic vedete proprio la differenza anche zoomando vediamo che mettendo a 1 metallic viene quasi un effetto come se fosse di ottone mettendo a 0 non abbiamo più questo effetto quindi sicuramente se noi volessimo fare qualcosa di metallic dovremmo aggiungere almeno in parte questo effetto in realtà il metallic possiamo usarlo anche con un valore molto basso se vogliamo fare un materiale che comunque ha un po di sfumatura di riflessione abbiamo poi lo specular che è quel parametro che ci dà la possibilità di aumentare quell'effetto di riflessione sulla superficie della luce quindi per esempio quando un materiale molto lucido se non addirittura bagnato abbiamo lo specular che deve essere un valore molto elevato per dare questo effetto già se noi uniamo insieme il metallic e lo specular vediamo come cambia il metallic a 1 lo specular a 1 quindi abbiamo molto la riflessione della luce che c'è in scena togliendo lo specular vedete che si ammorbidisce molto di più tenete presente che tutti questi effetti dello shader funzionano nel momento in cui ci sono delle luci in scena e quindi cambia l'effetto in base alle luci che ci sono in scena per questo motivo noi possiamo cambiare vedete l'hd array di sfondo e avremo più o meno visibile queste caratteristiche ad esempio con questo sfondo è molto più visibile il riflesso della luce e anche il riflesso del metallic per questo motivo poi dovremo controllare questo effetto poi con le luci di scena una volta completato per vedere come effettivamente le luci che abbiamo messo rendono questo materiale andiamo a vedere ancora la roughness che in questo momento a 0.5 la roughness letteralmente sarebbe la diciamo così rugosità e quindi è ovvio che da sola non dà l'effetto di riflessione ma se noi abbiamo un materiale che è molto specular e soprattutto molto metallic nel momento in cui la roughness è molto bassa quindi vuol dire che è un materiale molto liscio ecco che viene fuori la riflessione mentre se la roughness è a 1 anche se il materiale è metallico non avremo una riflessione chiara e precisa perché appunto il materiale non è più liscio quindi dobbiamo lavorare insieme queste varie opzioni ci sono ovviamente poi tante altre impostazioni come la normal che è molto importante ma la vedremo con le texture perché appunto lavora tramite delle particolari texture dei particolari tipi di immagine che ci permettono di simulare la profondità di alcuni dettagli dell'immagine come classico esempio è il muro di mattoni dove abbiamo i mattoni che sono più verso di noi e le fughe dei mattoni che sono più in profondità si può usare il canale normal tramite una texture per simulare il fatto che le fughe siano più in profondità rispetto ai mattoni ed evitare quindi di dover modellare l'oggetto in maniera così precisa pur mantenendo la realisticità dell'effetto per esempio l'emission è un'impostazione importante perché simula un materiale che emette luce quindi di conseguenza se noi andiamo a cambiare le impostazioni e gli diamo un colore quello che succede è proprio il fatto che quello che noi mettiamo nell'emission di fatto va ad aggiungersi al colore di base perché è come se l'oggetto emettesse quel stesso colore e avrà un effetto simile appunto a una luce che abbiamo inserito in scena ora in questo momento lo lasciamo appunto a zero e facciamo come abbiamo detto l'esempio di dover creare un materiale per questo vaso che assomigli a della ceramica quindi sicuramente se noi vogliamo fare una ceramica lucida e liscia sarà un materiale che avrà uno specular molto alto dovremo vedere la riflessione delle nostre fonti luminose su questo oggetto e sicuramente dovrà essere con una roughness molto bassa perché deve riflettere quello che c'è attorno il metallic invece anche se ci dà una maggiore riflessione unito alla roughness dobbiamo tenerlo basso perché altrimenti ci dà una sfumatura che non è più simile al ceramica ma appunto è più simile al metallo quindi dobbiamo tenerlo basso possiamo anche diminuire molto di più la roughness in modo che si crea un materiale molto lucido e questo per esempio può essere un'idea per creare un materiale per questo vaso possiamo poi eventualmente cambiarci il colore e decidere se vogliamo appunto un bianco più puro o pochettino più naturale un po più sporco ed ecco che con pochissime impostazioni abbiamo dato già un effetto molto realistico rispetto a come era prima possiamo vederlo dall'oggetto di fianco tenete presente che in questa visualizzazione non ci sono neanche le ombre eccetera quando creiamo un materiale possiamo anche cancellare il nodo che non ci serve ci conviene subito rinominarlo in modo da poi andarlo a trovare subito quando ci servirà quindi lo chiamiamo ceramica bianca e la cosa comoda che se noi andiamo per esempio sull'oggetto di fianco perché no anche sul tavolo noi possiamo creare un materiale nuovo per il tavolo oppure se vogliamo utilizzare un materiale già creato ci basterà cliccare sull'icona e selezionare il materiale che è già presente in libreria quindi ceramica bianca ed ecco che viene applicato anche al tavolo ora non si vede molto bene perché per come sono messe le luci in questa scena non si vede particolarmente ma la cosa importante è ricordare che condividendo lo stesso materiale questi due oggetti se io vado a cambiare una qualsiasi impostazione la vado a cambiare per entrambi gli oggetti come vedete quindi sia dal punto di vista del colore sia dal punto di vista ad esempio della roughness o di qualsiasi altro altra impostazione se invece per il tavolo vogliamo un materiale del tutto nuovo possiamo andare su questo che era il suo materiale originale e modificarlo quindi per esempio pensando di doverlo in futuro andare su una texture legnosa vedremo poi come aggiungere le texture possiamo cambiare il colore già adesso e decidere se è un materiale del tutto opaco oppure lucido possiamo momentaneamente metterlo lucido in modo che si creino un po di riflessi e ancora ad esempio se noi volessimo fare come dicevamo la scritta metallica possiamo selezionarla creare un nuovo materiale selezionarci un colore per esempio qualcosa di più tendente all'azzurro in questo caso possiamo mettere metallic anche a uno e poi con la roughness decidere che tipo di sfumatura dargli se vogliamo vedere la stessa scena ma come risulta con le nostre luci dobbiamo andare nella modalità appunto di rendering quindi possiamo o tornare layout come abbiamo detto prima visto che eravamo già in modalità shading rendering abbiamo adesso tutte le nostre luci più i materiali che abbiamo appena creato oppure sempre in shading ci basta cambiare la tipologia di visualizzazione ed ecco che possiamo vedere non più le luci che sono state create diciamo con l'hd array con lo sfondo precalcolato ma con il rendering effettivo possiamo comunque usare layout navigare e vedere come effettivamente abbiamo sia le ombre sia le luci che avevamo messo precedentemente sia l'effetto con il materiale che abbiamo appena creato e si nota la differenza per esempio tra questi due materiali quello con il materiale ceramico e quello invece che totalmente senza ancora uno shader vedremo poi in un video apposito anche come cambiare la metodologia di rendering ma per rendervi ancora più evidente il passaggio vi faccio vedere il risultato non con il rendering in tempo reale di ivi ma selezionando appunto cycle che è il motore di rendering più preciso e più fisicamente accurato dal punto di vista visivo ecco che qui vediamo proprio il lavoro che fa il materiale quindi abbiamo tutte le riflessioni sia sul tavolo sia sugli oggetti e vediamo proprio come i materiali ad esempio del vaso rispetto a quelli della scritta siano effettivamente diversi tutto questo è stato fatto con il materiale di default e modificando soltanto tre o quattro parametri in realtà poi possiamo raggiungere effetti molto più realistici più accurati aggiungendo delle texture e lavorando anche su altre opzioni che oggi abbiamo tralasciato quindi questo video abbiamo visto cosa sono i materiali e abbiamo iniziato imparando a creare un materiale base da zero nel prossimo video vedremo come inserire una texture e come funziona appunto l'aggiunta e la regolazione di queste immagini che ci servono per rendere più realistici i nostri materiali come al solito fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo tutorial